E questo è il gol siglato da Brian Rodney a 10 secondi dalla fine del terzo drittel che ha di fatto spalancato le porte della vittoria ai biancorossi, successo sudato per i Foxes che è giunto solo ai rigori. Ma andiamo con ordine, nella terza giornata di qualification round il Bolzano ha ospitato al Palonda il Dorbirn, partita che subito entra nel vivo, a passare in vantaggio sono proprio i biancorossi grazie alla rete di Insan. Sembrava tutto facile per i Foxes che invece hanno subito la reazione degli avversari, prima con Aquino e poi con D'Aversa che nell'occasione ha sfoderato un tiro dalla linea blu da manuale. La prima frazione termina sul 2-1 in favore degli austriaci. La ripresa scivola via senza reti ma con un paio di occasioni d'oro per i Foxes. Allo scadere Cullen si vede salvare un gol sulla linea e Rodney non sfrutta al meglio un diotto rebound. Nella terza e ultima frazione il Bolzano non punge come vorrebbe Mr. McAdam e solo allo scadere trova un gol tanto atteso quanto insperato. I Foxes giocano la carta dell'uomo in più e con Hubl fuori dai pali arriva il sigillo di Rodney che insacca il puck alle spalle di Lawson. Sul 2-2 si va agli overtime dove non accade nulla con il fattore stanchezza protagonista. Arriva quindi la lotteria dei rigori che premia il Bolzano ed è proprio Phil De Simone a far esplodere il popolo biancorosso, 2200 i presenti. Noi siamo dati in vantaggio, poi in giro di pochi minuti hanno fatto due gol, secondo me li hanno trovati un po' così così. E dopo il loro portiere li ha tenuti in partita a lungo, meno male siamo riusciti a pareggiare 10 secondi alla fine e a vincere i rigori. Però non penso che loro siano una squadraccia, per quello è importante avere questi due punti e cerchiamo di andare avanti. Non penso che abbiamo giocato così malamente, anche tenendo conto che ci mancavano 3-4 giocatori abbastanza importanti per noi. Vittoria che significa per i Foxes il primo posto in classifica dopo la terza giornata di qualification round, con la cura di coach McAdam che sembra funzionare. Il cambio di allenatore, ognuno ovviamente vuole farsi vedere un po' di più, soprattutto le prime partite. Lui ci ha dato un po' di fiducia, ha detto che non vuole cambiare più di tanto, vuole che giochiamo più aggressivi. E noi cerchiamo di fare quello che lui ci dice. Sicuramente due settimane non è che puoi cambiare più di tanto, però penso che già un po' la mentalità è un po' già cambiata. Patiniamo un po' di più in fase di chiusura e speriamo che andiamo avanti così.